La sfida degli antipasti. Parliamoci chiaro. Chi non adora gli antipasti? Che siano freddi, caldi, semplici o composti, è impossibile farne a meno. Ecco l'ultima sfida in cucina. Abbiamo selezionato tre ricette semplici e veloci. Sei pronta o pronto per leccarti i baffi? 1. La bruschetta al pesce spada di ricette video. Tutti i processi vengono mostrati in infografica. 2. Antipasto Mari e Monti di YouChef. Una ricetta a base di pesce, funghi e carciofini. 3. Pane carasau con formaggio del cibo delle coccole. Una ricetta semplice, gustosa e velocissima. Quale ti piace di più? Vota la tua ricetta preferita cliccando sul riquadro corrispondente e metti un bel mi piace. Finca il migliore! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!